Ehm, vediamo che c'è qua. Cos'è? Questa. Rosy Reds detergente! Ah, perdona, lavare! Te! Ti prego! Ti prego! Lasciami sola! Cosa ti ho fatto? Cosa vuoi? Che cosa vuoi? Vuoi soldi? Puoi averli! Puoi averli! Puoi averle tutto quello che vuoi, ti prego! Ti prego! Ti prometto! Non lo dico a nessuno! Hai una maschera! Non so neanche chi sei! Ti prego! Ti prego! Mio marito! Peppe! Arriva fra uno pari di minuti! Oh, cazzo! No! No, no! Che fa con l'accetta? Ti prego! Ti prego, no! Ti prego! Adam! Peppe! Peppe! Peppe, aiuto! Adam è andato! Ok! E' il signor felice che si muiuti da città! Andiamo qua! Sta meglio! Qua stiamo meglio! Anche un giorno io non mi ringrazio! Ma lo spero, lo spero! Ti ricordo che hai fatto a benzina la macchina! No, cagli da 5 km alla prossima benzina! Oh, sweet! No pochi camminati dentro la montagna! Aria fresca! Ti fa buono! E tu! Perdi peso! Perché sei grasso! Eh sì, sì! Ci lavoro! Ci lavoro! Ci lavoro! Sì, è proprio bellissimo! Sì, è proprio bellissimo! Beh, a ditte traslocka è già passata allora! Allora, andiamo a lavorare! Lavoro! Sempre lavoro! Ah, che bella casa! Puoi portare box d'interno, ti prego? Sicuro? Sicuro il puerto subito? Che bella casa! Ciao a tutti! Ragazzi e ragazze! Benvenuti su Giocato con Mike! 22 aspetto agosto 1979! Benvenuti a Giocato con Mike! Sì, siamo qua! Su The Beast Inside! Ragazzi, gioco d'orrore! Di nuovo gioco d'orrore! Siamo qua! Ci siamo presi la casetta! Qua in Galabra! A Monte Cucuzza! Ci siamo presi! E siamo qua con la 128! Di nonno Peppe! Ma vediamo che dobbiamo fare! Allora ragazzi! Press tab to check your tab recorder! I'm just a recall conversation! Eh! Anytime you can play this! Recorder the fans and what to do next! Schiacciamo tab! Ecco qua! Questo è il mio videoregistratore ragazzi! Emma! Honey! Puoi portare le box! Dentro? Ti prego! Peppe! Sicuro? Ok! Che box! Eh! Eh! Teresa! Teresa! I bottigli a gas dentro li porto! E' bota qua! Aia Madonna! I' bota qua! E' bota qua! E' c'è c'è due! Con la c'è run! E' bota qua! C'è culo! Immagino sbuccava un pagliaccio qua! No! Non è qua! No! Non è qua! Non trovo niente qua! Non è qua! Allora forse l'ho lasciato in macchina! E' dillo prima! Cacchio! Ah! Apriamo qua! Allora eh! Vediamo che c'è qua! Cos'è? Questo! Rosy Rats! Detergente! Ah! Perdona! Lavare! Te! Acqua! Non mi serve! Sprite gazzosa! Ok! Non mi serve! Fizz! Non mi serve! Ah! Qua andiamo giusto adesso! Ah! Glug 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 glug! Glug glug! Ah! Ehm! Ecco qua! Ah! Ecco qua! La chiave! Prendiamola! Eccola! Ehm! Scatole donna! E vado ad aprire qua! Ehi! Ehm! Ecco qua! Prendiamo questo! Ok! Mettiamo le box dove l'altra! Qua! Ok! Qua! 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 E qua! E finalmente l'ultima! Ecco qua! L'ho portata tutte! Che c'è qua? Vai via! Spostati! Che abbiamo qua di bello? Oh! Con questo me lo porto per sicurezza! Eh! Eh! Epe! Che è qua? Ah! Ok! Mi serve qualcosa per aprirlo? Sicuramente starà... Ah, vediamo che c'è qua Amica ragazzi, ho un culo della madonna Aspetta, qua che c'è? Posso venire qua? Posso vedere sta cavolo di cosa? Mi fai entrare? Fai che sono soldi, fai che sono soldi! Il gioco è figo ragazzi Ok 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 Ah, ok Ok, sì, questo lo so No, cazzo, l'ho preso senza guardare Ah, devo rotate objects to find hidden message Ok Ok, devo scrivere qualcosa qua Per far aprire il scatolino Some kind of decrypting device Ah Ah Ok Ah, prendilo Certe lettere non sono uguali all'altra Rotate Ah, ok Oh G C Julius Cesare iniziale Però perché scrive qualcuno queste cose che sono uguali? La Ok, la I lunga è uguale a C Giulio Cesare Ma con questo che me ne faccio? Ah, devo trovare qualcos'altro, credo H P O A H, P, O Ah, madonna, sono troppo bravo Cazzo H H A P P Cazzo, non c'è la O Allora, aspetta, facciamo H No, ragazzi, la O non c'è I lunga è uguale a C I lunga uguale a C H P A O H P A O C'è la madonna santa E dillo prima che si muove sto coso Eh, questo è facile C I lunga C è una I lunga Perché dovrebbe essere allora pure qua la I lunga La C No, è una Q Ok, fa niente Eh A, O Allora, la A e la O Abbiamo la A e la O Andiamo la A e una T T H Ok T H A I I Non lo so Bit Bit R Bit G Bit F Bit Cazzo ne so Ci potevo pensare prima Fate Che significa fate, credo Credere Credenza, roba del genere Prendi, chiave No, non ho letto di dov'era Un'antica chiave Però di Di dove Che stanza è? Oh, ok Abbiamo qua Property of Nicholas Property of Nicholas Questo appartiene al zio Nicola 27 settembre 1864 Questo posto è come quel giorno Loading Ok 27 settembre 1864 Questo posto è come l'ho lasciato Sono passati tanti anni Solo il silenzio Solo il silenzio Mi aiuta a distinguere il passato Però non ci penso Meglio Se vado a guardare se è tutto al suo posto Sta diventando tardi Devo cercare delle cantele Per fare un po' di luce Allora mi hanno detto che è meglio se scrivo Ogni cosa che mi succede Chapter 2 Ok Chapter 2 Ragazzi Credo che lasciamo qua adesso L'episodo numero 1 Di The Beast Inside Continuiamo poi con qua Perché io Io credo che qua inizierà l'orrore Ragazzi L'altro adesso non genera l'orrore Ma io A me mi piace fare le intro del gioco Per far vedere la storia Faccio dei tagli Ma non taglio il pezzo della storia Quindi ragazzi Come sempre Mettete un bel like Condividete il video Iscrivetevi ragazzi Che grazie ancora 1200 iscritti ragazzi Devo fare speciale 1000 iscritti Ma sto salendo così veloce Che credo forse lo faccio A 2000 se ci arrivo Quindi aiutatemi ragazzi Tutti voi Grazie mille E ci vediamo al chapter numero 2 Il vostro gioca con Mike Ciao a tutti